Uomini poi ammal più che albenusi, fuormi rapirono della dolce chiostra, e Dio si sa qual poi mia vita fuusi. Così parlommi, poi cominciò Ave Maria cantando e cantando l'anio come per acqua cupa cosa grave. Ave Maria cantando e cantando e cantando e cantando e cantando. Ave Maria cantando e cantando. In excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis. Ave Maria cantando e cantando e cantando e cantando e cantando. Ave Maria cantando e cantando e cantando e cantando. Ave Maria cantando e cantando e cantando. Ave Maria cantando e 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 cantando. Quindi, al servizio di Dio, mi fessi fermo. che pur con cibi di licuor d'olivi lievemente passava caldi e geli, contento nei pensieri contemplativi. Render su lei a quel chiostro a questi cieli, fertilemente, e ora è fatto vano, sì che tosto convienca a Sirdeli. In quel loco fu io, Pietro Damiano, e Pietro Peccator fu nella casa di nostra donna, insullito Adriano. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.